Ciao a tutti, oggi vediamo come fare un semplice stop motion dire al vero come la scorcetoglie di Final Cut per importare le varie fotografie per fare lo stop motion allora io mi sono già preparato 15 fotografie di una piccola sequenza che avevo niente di preparato per lo stop motion bene, se noi le importiamo così, vedete nella duration qua mi dice 10 secondi 10 secondi ogni fotografia in questo caso che sono solo 15, uno potrebbe anche prenderle uno a uno e rimpicciolirle a 4, 3, 4 frame, 5 al massimo dipende uno cosa vuole, si può anche fare stop motion a un frame tutto dipende quanto materiale abbiamo e cosa vogliamo fare ok, le ricancello e vi faccio vedere come è la procedura più semplice da fare allora andiamo su Final Cut, User Preference, Editing, il primo qua, Still Freeze Duration ve lo faccio vedere, Still Freeze Duration togliamo via 12 e impostiamo in questo caso 4 frame ok, do ok riprendo le mie sequenze, quindi 15 foto in questo caso e come potete vedere Duration 4 frame in questo caso è molto semplice, le prendiamo tutte, le portiamo sulla nostra timeline e abbiamo il nostro stop motion con 4 frame distanziati da le varie fotografie il risultato più o meno è questo qua ovviamente questo, ripeto, non è niente di preparato ho preso delle immagini a caso camera fissa per far vedere giusto i metodi più veloci per fare uno stop motion ovviamente di stop motion ce ne sono mille potete andare su YouTube qua cercare stop motion mi vengono fuori mille esempi di stop motion di come fare non ne ho trovati tantissimi ma cose già fatte ce ne sono parecchie giusto per farvi un'idea di cosa è e come funzionano ovviamente ci vuole tanta pazienza bisogna mettersi lì e ricrearsi frame by frame tutta la nostra sequenza bene, cosa aggiungere? niente, questo è il metodo più veloce per portare le nostre fotografie i nostri frizz in timeline in modo molto veloce va bene, ciao a tutti ragazzi, alla prossima grazie a tutti